Lo hanno trovato impiccato nella sua scella e la tragica fine di un detenuto calabrese all'interno del carcere Campanello di Ariano Iverpino. A nulla e va al sogni disperato tentativo di soccorso. Non c'è stato nulla da fare. Sconosciuti i motivi dell'insano gesto, la salma, su disposizione della procura di Benevento, è stata trasferita nell'obitorio dell'ospedale Moscati di Avellino per l'atopsia. Si tratta dell'ennesimo suicidio nelle carceri italiane. Un mese fa un detenuto si era impiccato all'interno delle carcere di Benevento nella sezione dell'articolazione psichiatrica. Vittima dell'insano gesto, un detenuto di 30 anni di origine rumene. Fu il quarto in campagna dopo i suicidi avvenuti precedentemente nel carcere di Santa Maria Capavetere, Avellino, Poggio Reale, oltre al sedicenne agli arresti domiciliari, che decise di togliersi la vita in una comunità di accoglienza. 36 suicidi complessivamente in Italia su 88 morti totali dall'inizio dell'anno. 62 era stato invece il drammatico bollettino di morte del 2020. Una situazione drammatica, quella legata alla mancanza di formazione, attività trattamentali, rieducazione, oltre ad una gravissima carenza nell'area psichiatrica, che era stata portata alla luce circa un mese fa durante il tour dell'osservatorio carceri negli istituti di pena in Irpinia. Grazie a tutti.